Città che ad oggi conta il maggior numero di minori, il 22% sul totale della popolazione, Napoli si prepara a diventare capitale europea dei giovani per il 2018. La candidatura è stata presentata questa mattina dall'assessore Alessandra Clemente e vedrà lo sviluppo di attività e progetti legati ai giovani, alle loro esigenze e al loro modo di vivere. Napoli è capitale europea dei giovani nella misura in cui abbiamo il tessuto associativo giovanile più forte e incidente d'Italia. Più di 150 associazioni sono iscritte al registro comunale, ma noi non ci siamo limitati nel form di application che abbiamo presentato alla Commissione europea per accedere alla candidatura e raccontare ciò che il Comune di Napoli fa. Abbiamo cercato di raccontare tutta la rete interistituzionale, quindi per noi i grandi partner della coalizione sono le istituzioni del nostro territorio, quali le università, sono le accademie, sono le organizzazioni professionali, ad esempio dei giovani, insieme anche a quelle dell'industria e del lavoro, e poi l'ANC. L'iniziativa è stata lanciata nel 2007 dal Forum Europeo dei Giovani e si avvale di una piattaforma di progettazione partecipata per raccogliere i partner e i progetti che saranno realizzati in caso di assegnazione del titolo. Per noi come Comune investire sul territorio e sui giovani significa voler superare i limiti del presente e porci tutti quegli obiettivi che nel 2018 e non solo devono far diventare Napoli sempre di più un punto di riferimento in Europa per i ragazzi.